Dove è finito l'annunciato piano per la manutenzione del verde pubblico promesso dall'assessore all'ambiente Daniele Ialacqua? Forse l'amministrazione comunale attende la disponibilità dei volontari, dei tanti messinesi di buona volontà per eseguire quei fondamentali ed ordinari servizi che l'istituzione dovrebbe garantire. La vivibilità di una città si misura anche in questo, nel promuovere pulizia e decoro nelle aree a disposizione della collettività. Lo sa bene l'amministrazione a Corinti. A distanza di qualche mese siamo tornati a documentare le pessime condizioni del lungomare Ringo. La nostra emittente ha denunciato più volte il degrado di una delle zone più belle della città, luogo di incontro soprattutto per anziani e bambini. Lo ha fatto quando la gestione del verde pubblico era affidata all'allora assessore Elvira Amata, espressione della giunta a Buzanca, e lo fa anche adesso che al comune c'è una nuova amministrazione che ha già annunciato un'inversione di tendenza nell'affrontare i problemi. Evidentemente però nulla è cambiato. Il lungomare, anzi scusate, forse sarebbe più corretto dire la discarica Ringo, rappresenta l'ennesima vergogna che mortifica la città. Un vero scempio. Qui l'intervento degli operatori di Messina Ambiente continua ad essere un miraggio. Spazzamento e scerbatura del lungomare sono inesistenti. Il cronista racconta ciò che vede e le immagini realizzate supportano la denuncia. Certo, anche messinesi incivili sono responsabili del degrado ed in questo caso serve il cambio culturale invocato dal sindaco a Corinti. Ma non possiamo non sottolineare le responsabilità di Palazzo Zanca. Se le aiuole sono incolte, soffocate dall'erbaccio, non è certo colpa del messinese incivile. Lo stesso vale per i cedimenti del pavimento in diversi punti e per un impianto di pubblica illuminazione che non funziona così come dovrebbe. L'intervento del Comune per riqualificare l'intera zona non è più rinviabile. Da un'amministrazione attenta ai temi dell'ambiente, la città si attende risposte concrete. Capito la parte quello delle potature. I pedoni che transitano da Via della Libertà nei pressi del Museo regionale devono misurarsi con le chiome degli alberi che stanno raggiungendo il marciapiede.